Allora, innanzitutto, buonasera a tutte e a tutti, a ciascuna e a ciascuno, perché le vostre vite, le nostre vite, sono uniche e irripetibili, per cui il mio abbraccio è proprio unico e ripetibile a ciascuna e a ciascuno di voi. Io sono grato a, lo chiamo mio fratello maggiore, perché dichiaro una mia profonda stima, affetto e metteteci tutto quello che volete, a Don Giovanni Mazzillo, che mi ha invitato a tirare un po' le conclusioni a questo convegno denominato un patrimonio di sapienza, lo spirito del monachesimo italo-greco e la sua attualità. E io vi devo dire che ho vissuto questo tempo di questo convegno come un tempo kairotico, lo dico subito, cioè come un kairos. Che cos'è il kairos? Il kairos si differenzia dal kronos. Il kronos è questo qui, è l'orologio che misura il tempo. Il kairos invece è quando nel tempo irrompe la grazia, irrompe il totalmente altro, irrompe qualcuno o qualche cosa che indubbiamente rende il tempo, il kronos diverso. Quello che noi chiamiamo il tempo della storia della salvezza. E per usare un'espressione molto cara a Georges Bernanot, perché una serie di riflessioni che ho fatto tra me e me mi ha riportato anche a tutte le grandi correnti della spiritualità. Una tra le tante è la corrente spirituale francese, mi riferisco a Charles Péguy, mi riferisco a Georges Bernanot. Georges Bernanot in quel bellissimo libro, diario di un curato di campagna, dice tutto è grazia. E questa sera indubbiamente abbiamo vissuto un tempo di grazia, anche se devo dire al caro Giuseppe Di Fazio che devi però ripagare queste persone con un premio. Il premio della resilienza. Queste persone meritano tutta la resilienza. Oggettivamente, quindi ti devi inventare qualche cosa perché siete stati resilienti, siete stati il capolavoro della disponibilità. Per cui io non voglio assolutamente ulteriormente approfittare della vostra disponibilità e tenterò in maniera quasi paradigmatica, come dei paradigmi di tirare alcune conclusioni che, dico subito, dopo tutto quello che abbiamo ascoltato le conclusioni non possono esserci. Ma le uniche conclusioni che possiamo tirare sono conclusioni aperte. Perché personalmente tante cose non le conoscevo e mi avete generato una sorta di curiosità. Cioè io me ne vado, ecco qui ci vuole San Francesco d'Assisi che dice benvenuto a questo cane, però vediamo un po' che succede. Ecco il delegato del sindaco fai la protezione civile. Allora, indubbiamente ci avete consegnato un patrimonio che genera una grande curiosità. Per cui abbiamo bisogno che queste conclusioni siano ulteriori punti di partenza, no? Tutti i relatori, ho visto che siete molto molto preparati, Giovanni Mazzillo lo conosco e conosco molto bene il suo spessore spirituale, culturale, no? Però io vi invito ad approfondire quanto ci avete consegnato. E allora, prima di tirare proprio qualche piccola conclusione, io devo ricordare due vescovi con cui ho avuto un bellissimo rapporto e dai quali mi sono sentito molto molto amato. Innanzitutto Monsignor Cantisani. Monsignor Cantisani, voi non potete non ricordarlo. Io l'ho conosciuto dal 2015 quando sono entrato in diocesi, appena ho partecipato alla prima conferenza episcopale Calabra, è nata, come devo dire, una veramente una grande simpatia, una grande empatia, una grande amicizia spirituale. Monsignor Cantisani era una intelligenza spirituale, aveva una spiritualità intelligente e era un grande pastore. Aveva anche lui questa capacità di scavare, pensate, tutto il suo studio su Cassiodoro. Questo dobbiamo dircelo, perché vedete, noi spesso pecchiamo di Alzheimer culturale. L'Alzheimer è una brutta malattia, però oggi si pecca di Alzheimer culturale. Ecco perché io sono grato a questo convegno. Questo convegno ha recuperato una memoria culturale, storica e non c'è né presente né futuro se non siamo capaci di custodire la memoria. Il tempo che passa. E il tempo che passa porta con sé risorse patrimoniali, direi, veramente da custodire in modo prezioso. E poi non posso non ricordare anche Museo Nolè. Io sono stato, mi hanno detto, l'ultimo vescovo che li ha fatto visita il 5 settembre, quando abbiamo concluso il Consiglio di Presidenza della CEI a Roma e ho detto vado al Gemelli e mi sono fermato un po' con lui. C'era chiaramente la sorella e una nipote e poi c'era quella bella persona che lo ha custodito nell'Episcopio di Cosenza. So che qui ha lasciato una bellissima traccia della sua esperienza pastorale. Per cui non potevamo non ricordare due pastori, due vescovi. Io ho ascoltato cose veramente profonde, vere, autentiche. Per cui mi permetto, proprio perché il tempo veramente ormai è finito, è scaduto, voglio così tirare delle conclusioni, ma come devo dire proprio a modi di affermazioni. La prima, se noi viviamo una crisi di ogni tipo, oggi si parla di crisi economica, si parla di crisi politica, si parla di crisi antropologica, davvero che si parla di transumanesimo, di postumanesimo, si parla addirittura oggi di post-cristianesimo, ma io ascoltando le relazioni penso che abbiamo capito che la vera crisi che stiamo noi vivendo possiamo dare un termine preciso, una denominazione specifica. Noi stiamo vivendo una crisi spirituale. Questa è la vera crisi. E questa sera, dai vostri interventi, bellissimo l'uverture, il punto di partenza di Don Giovanni, dobbiamo ripartire dalla spiritualità. Il monachesimo ci fa capire che è un'esperienza soprattutto spirituale, fortemente spirituale, ma anche qui lasciatemi dire una cosa, la spiritualità non è astrazione, la spiritualità non attiene soltanto alle esperienze religiose. Quella è una dimensione della spiritualità. Ma quando parliamo di spiritualità, la spiritualità attiene a una domanda fondamentale che l'uomo si pone. Perché vivo? Perché sono nel mondo? Qual è il figlio della mia vita? Qual è? La spiritualità attiene soprattutto al significato profondo per cui io sono. La spiritualità attiene soprattutto al telos, al fine, alla meta per cui io sono nato. Allora noi dobbiamo portarci a casa, soprattutto questa sera, il bisogno, l'esigenza profonda di recuperare l'interiorità. Non dissociata dal corpo, ma una interiorità, una spiritualità olistica, globale. Dobbiamo recuperare un umanesimo integrale, ripensando l'umanesimo integrale del grande Jacques Maritain, ma non solo lui, ma rivisitandola con la spiritualità, con l'interiorità che dice il senso della vita. Quando Giuseppe Di Fazio, architetto che ho conosciuto questa sera, ha introdotto il tema, alla fine ha consegnato delle domande. È fatto molto bene. perché sono le domande che aiutano a crescere. Io ho paura delle persone che non si pongono domande. Un grande filosofo che fa ancora oggi discutere, che si chiama Nietzsche, Nietzsche diceva che la vera differenza che passa fra l'animale e l'uomo è che l'animale non si pone le domande. L'uomo, la persona, il soggetto che siamo noi ci poniamo le domande e le domande vanno abitate. Ed ecco una seconda conclusione. Mi chiedevo, mentre parlavate, io non sono un esperto delle cose che avete detto. Ma perché? Perché? Il monachesimo, lo definisco orientale, è stato brillante, bellissimo, effervescente, eccedente, straordinario, superlativo, metteteci tutti gli oggettivi che volete. A differenza di quello occidentale. Il monachesimo occidentale rispetto al monachesimo orientale ha marcato una differenza come diminuzio. Però poi mi chiedo, mi chiedo perché? Perché il monachesimo occidentale di fatto si è organizzato e si è sviluppato e ancora oggi ci sono organizzazioni, come do dire, reali, concrete del monachesimo occidentale. Perché? Io una spiegazione, ma la sua data. Può anche darsi che sbaglio, fratelli monaci, monaci, italo, greci. Per cui chiedo venia se sto dando una risposta che non vi convince o che non convince voi studiosi. Mi una risposta me la sono data. Il monachesimo occidentale ha avuto San Benedetto. San Benedetto ha organizzato il monachesimo con una legge. Io sono profondamente convinto, e sarebbe interessante aprire un convegno su questo, che qui si apre una grande riflessione. Il rapporto fra carisma e istituzione. Il monachesimo orientale è stato carismatico, effervescente, straordinario. Ma il monachesimo occidentale, grazie a San Benedetto, ha avuto la capacità di istituzionalizzare il carisma e il carisma è stato custodito, è stato conservato e si è riorganizzato, sia pure anche in forme più corrispondenti ai segni dei tempi. questo per me è una conclusione che volevo così tentare di consegnarla a voi tutti. Una terza conclusione. Quindi spiritualità, quindi rapporto fra carisma e istituzione dentro il movimento del monachesimo, nel rapporto fra monachesimo orientale e monachesimo occidentale. ma che cos'è poi in fondo? Mi ha fatto bene mio fratello, me lo sono adottato come fratello, Giovanni, quando dice che non è misantropo, non è misogino il monaco. Sapete chi è il monaco? il monaco è uno che, come tutti noi, voleva essere felice. Voleva essere felice. Perché adesso tu, Pippo, non puoi essere felice? Perché tu non vuoi essere felice? Tutti volevano essere felici. Io mi sono convinto che quando penso alla mia storia, non ve la dico che vi scandalizzerei, no? Io sono figlio del 68, ma sono un 68 non pentito, eh? Lo dico subito. Mi dispiace per te, ma non sono un 68 non pentito. A una certa età della mia vita ho letto Marx, ho detto, non vi dico. Poi mi sono convertito e io ho fatto l'incontro con Gesù, che mi ha cambiato la vita. mi ha cambiato la vita e me l'ha veramente. E ad un certo momento ho capito che Gesù era la risposta corrispondente al mio disegno di bellezza, di giustizia, di verità e direi anche, chiamiamola, di gioia e di felicità. I monaci, mi è piaciuto, caro, 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 caro Giovanni Russo, qui Giovanni siete tanti, eh? Quando lui ha detto, oh, questi monaci stavano alla grotta, sulla roccia, gli essicasti, mi ricordo quando lo studiai anch'io, no? Uno diceva, questi sono matti? No, queste sono state persone che hanno trovato in questa scelta monacale la loro felicità. Sono uomini felici. Perché il vero problema della vita è, tu ti vuoi sposare? Bene, ma devi essere felice. Io ho guai se come vescovo o come prete non fossi stato felice, avrei dato sumo di missioni. Ma puoi sprecare tutta la vita? Ma possiamo sprecare tutta la vita? I monaci non hanno sprecato la vita. Comprendiamoci. Anzi, avete visto cosa hanno generato i monaci? I monaci sono stati generativi. La loro esperienza non è stata sterile. È stata talmente generativa che abbiamo scoperto tutta una serie di tracce di bellezza. Addirittura hanno saputo, no? Oltre a copiare, no? Tutto questo lavoro, no? I codex purpureus. Ma hanno addirittura generato anche delle capacità strumentali tecnologiche, le chiameremo oggi. Allora il monachesimo è stata un'esperienza di bellezza vocazionale, mi piace chiamarla vocazionale, e soprattutto i monaci hanno risposto a un bisogno di bellezza che l'hanno trovata vivendo in una grotta, vivendo sulla roccia. Allora ecco la terza conclusione che voglio tirare. Si è felici quando si è monaci, quando si è preti, quando si è papà, quando si è mariti, quando si è moglie, no? Perché noi non possiamo sprecare assolutamente la vita. I monaci non hanno sprecato la vita. I monaci l'hanno vissuta in, come dice Giovanni Mazzillo, in pienezza. È stata una vita piena. piena di che cosa? Quarta e ultima mia conclusione. L'esperienza del monachesimo è stata una esperienza in cui hanno fatto sintesi fra cielo e terra. Il monaco ha preso il cielo e l'ha trascinato sulla terra, ha preso la terra e l'ha esaltato verso il cielo. Egelianamente, scusate se vado a prendere Egel, no? Egel quando ritiene che la realtà è triadica e c'è una tesi, un'antitesi, una sintesi, il monaco ha capito che la felicità, la bellezza consiste nel fare sintesi, fra cielo e terra, che non sono in contrapposizione, ma nell'esperienza concreta dei monaci hanno fatto sintesi, no? Tra le ragioni del cielo e le ragioni di Dio. Per cui mi piace dire che i monaci hanno fatto la scelta sapienziale. Sapienziale viene da sapere, sapere e il sapore, il gusto. Loro hanno trovato il gusto, il gusto, il sapore proprio nella scelta di essere monaci. E mi piace allora, e chiudo qui, avevo segnato altre sette, otto cose, ma veramente poi oltre alla resilienza non ci può essere nulla. Oltre alla resilienza c'è la morte e il paradiso per voi, no? E quindi non posso assolutamente. Voglio terminare con un augurio. Eh sì, sì. E lo dico a Giuseppe Fazzi, a Giovanni Russo, a Don Giovanni, a Biagio Moliterre, a Raffaele Pappaleo e a Francesco Stoduto. Che cognome difficile, no? Lo dico anche alla signora che ha introdotto a nome di Hauser. Lo dico a tutti. Noi questa sera dobbiamo andarcene con un desiderio. Se non ce ne andiamo con un desiderio, sapete cos'è il desiderio? Desidus. Sidus è la stella. Noi questa sera dobbiamo individuare qual è la nostra stella. Sapete qual è la nostra stella? Sapete come si chiama la nostra stella? Sia che io sia monaco, no? Italo-greco, sia che io sia teologo, sia che io sia studioso, sia che sia ovesco, sia che sia fidanzato. Sposatevi presto, mi raccomando. sapete qual è la nostra stella? La nostra stella si chiama Santità. Siamo chiamati tutti ad essere santi. Il capitolo 5 da Lumen Gentium ha questo titolo, Vocazione Universale alla Santità. È un grande teologo che piaceva a Don Giovanni Mazzillo, Gesuita, Karl Rahner, diceva al termine della vita o la santità o la bancarotta della vita. Io vi auguro che non possiate mai decretare il fallimento della vostra vita, ma fedeli ciascuno di noi alla propria vocazione possiamo diventare santi perché la santità è veramente il desiderio più bello per essere gioiosi e felici della vita. Buon cammino verso la santità.